Per la prestazione del secondo tempo, sia perché comunque ho ottenuto un punto in casa di una squadra che è stata costruita per fare un campionato di vertice, sicuramente credo che in parecchi di noi, in tutta la squadra, quel pizzico di rammarico c'era, perché comunque abbiamo avuto la netta sensazione di poter portare a casa i tre punti e dare un segnale abbastanza forte. Non ci siamo riusciti, però ci rimane un ottimo secondo tempo e ci prendiamo questo punto e veniamo via da Perugia con tante risposte. Ma sì, diciamo che possiamo capire l'arbitro perché anche noi sul nostro rigore non ci siamo accorti di nulla, solo rivedendo le immagini abbiamo visto quanto è stato clamoroso il tocco di mano. Per quanto riguarda il rigore del Perugia, credo che l'arbitro era lì, era molto vicino, c'è stato un tocco, anche se leggero, magari Carraro è stato bravo a cadere subito appena ha sentito il tocco di Michele. Ripeto, anche ieri sera c'è stato un errore clamoroso in Benevento Cremonese, quindi in B, non essendoci la VAR, una volta che c'è qualche errore, anche protestare diventa inutile. Ma gli stimoli sicuramente rimangono gli stessi, quelli di inizio campionato perché anche quando abbiamo perso tre partite di fila avevamo lo stimolo ancora più importante di venire fuori il prima possibile da quel momento e ci siamo riusciti sia con una prestazione con l'entella, soprattutto caratteriale, magari soffrendo anche un po', però abbiamo dimostrato tanto carattere e dobbiamo vincere assolutamente a tutti i costi, ci siamo riusciti. A Perugia credo che abbiamo avuto delle risposte anche sotto il piano del gioco perché secondo me abbiamo espresso un ottimo calcio e sappiamo che la partita di sabato si deve vincere, si deve vincere perché dai ancora più importanza al pareggio di Perugia, diamo un segnale forte a noi stessi e poi credo che anche al tutto. Sì, sicuramente, innanzitutto nessuna partita in Serie B è facile. Il Venezia è una squadra che corre, ha fatto anche dei buoni risultati, quindi sappiamo di non prenderla alla leggera, anzi, dobbiamo portare grande rispetto al Venezia, ma noi siamo in casa nostra, abbiamo il nostro pubblico da nostra parte e ripeto, usciamo da Perugia sicuramente con delle risposte in più che ci aiuteranno ad affrontare al meglio le prossime partite. Sicuramente si può sempre dar di più, sono consapevole che magari non sono riuscito ancora a esprimere al 100% le mie qualità, questo lo so, lo sa anche il Mist che mi sprona sempre a dar di più perché riconosce magari che ho delle qualità che ancora devo mettere in atto. Sicuramente non è stato facile per me cambiare tutto dopo due anni e ambientarmi comunque in un nuovo posto e devo dire la verità che devo ringraziare tutto l'ambiente, i compagni e la società perché dal primo momento mi hanno fatto sentire a casa. Però ovviamente non è mai facile, anche ad abituarti a nuovi sistemi di gioco, ad abituarti a quello che ti chiede il nuovo allenatore, credo che si può sempre migliorare e il Mist mi sta mettendo nelle condizioni di riuscire. Ora siamo lì e lavoriamo per crescere sicuramente perché abbiamo le qualità per poterlo fare, lo sappiamo e dobbiamo continuare a ragionare di partita in partita sapendo che siamo lì e dobbiamo continuare a rimanere lì. Poi il campionato è lungo, lo sappiamo, ci saranno delle difficoltà ma credo che dobbiamo lavorare per riuscire tutti insieme da queste difficoltà come abbiamo fatto e che ci possiamo togliere delle soddisfazioni. Poi a fine anno vedremo quale sarà l'obiettivo che abbiamo raggiunto.